Simona, quali sono gli obiettivi di questo progetto per la riqualificazione di questo terreno agricolo a Lodi? Dunque, questo è un progetto che ha l'obiettivo sostanzialmente di attivare la cittadinanza, in particolar modo i residenti del quartiere di San Ferreolo, perché si prendano cura di un bene comune, ovvero un terreno posizionato in una zona semiperiferica della città, il quartiere di San Ferreolo, ad oggi di proprietà del comune che verrà ceduto con diritto di superficie per dieci anni. Capofila è un'organizzazione umanitaria dell'Odigiano, il Movimento Lotta Fame nel mondo, incordata con altre cooperative del territorio, un centro di formazione professionale e un ente che si occuperà poi dell'erogazione di borse e lavoro per l'inserimento di persone svantaggiate. Ok, quindi c'è qualche particolarità a questo progetto, qualche motivo specifico per cui vi siete così appassionati a questa tematica? La tematica afferisce al tema dell'agricoltura sociale per cui verrà coltivato un terreno con prodotti ortofrutticoli del territorio e la finalità finale, sostanzialmente l'obiettivo finale è quello di permettere a persone svantaggiate di generare reddito vendendo la produzione locale. Grazie! Grazie!